Mr. Anderossi, buonasera, una sconfitta per 3-0 in questo turno di Serie B Challenge. Abbiamo visto sempre la solita locomotive, tanto creato ma alla fine sotto porta forse mancava l'ultimo passaggio ancora una volta. Sì, diciamo che oggi per noi è stata una partita difficile per il valore dell'avversario, in dubbio, di alto livello. Per una nostra situazione di infortunati purtroppo molto preoccupante sotto un certo punto di vista, erano molto corti. Però i ragazzi che hanno giocato secondo me hanno dato una buona dimostrazione con degli errori, sicuramente sotto porta, con purtroppo un po' i noti errori di rifinitura che ci pregiudicano la costruzione che riusciamo a fare. Però, tutto considerato e considerando anche la difficoltà della partita, penso che sia stata una prestazione dignitosa. Diciamo che il 3-0, derivante da grandissime esecuzioni balistiche da fuori area, due gol su tre, sono stati chiaramente dei tiri importanti. Uno ce lo siamo fatti da solo. Il primo, purtroppo, con un errore da uno dei nostri giocatori più bravi, che sbaglia pochissimo, oggi è capitato a lui. Però, per noi, insomma, queste partite della Serie B Challenge sono anche un modo per vedere anche i ragazzi che giocano un po' di meno e che secondo me si sono comportati più che bene. Quindi, insomma, guardiamo con fiducia lunedì. Mister, hai già detto tutto il dolore in bocca al lupo e ci vediamo settimana prossima per la Sera d'Elite. Grazie, buona serata, grazie.